Quando superiamo le prove per compiere i Suoi propositi, riponendo la nostra fiducia in Lui ed esercitando la nostra fede in Lui, Egli ci aiuterà. Il Suo sostegno di solito ci giunge passo dopo passo, un poco alla volta. Mentre passiamo attraverso ognuna di queste fasi, il dolore e le difficoltà della crescita continuano. Se tutto avesse una soluzione immediata alla vostra prima richiesta, non potreste crescere. Il vostro Padre nei Cieli e il Suo Figlio di letto nutrono per voi un amore perfetto. Non permettono che affrontiate difficoltà superiori a quelle che sono assolutamente necessarie per la vostra crescita personale e per quella di coloro che amate. Grazie.